Loco, oggi io e te giocheremo a battaglia navale Hai capito? Molto 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 bene Cosa succede? Puoi catturare tutti i Pokémon leggendari che vuoi Ma anche non leggendari Per esempio, io ho appena catturato qua davanti un bellissimo Hydreigon Che è quasi a livello 70 In pratica, tu dopo andrai a costruire All'interno del tuo box PC Dei Pokémon in maniera randomica Per questo ti ho detto un altro Pokémon molto forte e leggendario come Zekrom Cosa succede? Noi chiameremo all'avversario 6 Pokémon all'interno del suo box PC Ma non solo Tu appunto puoi mettere anche Pokémon base per riempire Perché c'è il rischio che poi tu, Loco, dopo Non abbia neanche un Pokémon in squadra Se non vado a chiamarti nulla di bello Hai capito, campione? Mi piace Non ti rubo nulla oggi, caro campione Pokémon super 70 Ah sì? Va bene, allora campioncini Benvenuti dentro di questo nuovo video del vostro The Mark Cosa hai trovato, Loco, che ho sentito prima che facevi il rumore, eh? Cosa hai trovato? Ho preso un bel po' di leggendari, effettivamente Un bel po' cosa mi vuol dire E si esprime Almeno 5 sono tanti, Loco, almeno 5, eh Almeno 5 sono veramente tanti, ragazzi Quindi voi lasciate per favore un bel mi piace E scrivete nei commenti il hashtag sonouncampione E scrivete anche se verrete al Milano Games Week, ragazzi Perché ho bisogno di saperlo Perché così capiamo cosa possiamo combinare al buon Loco Magari qualche scherzo Tutti quanti assieme Ci vuoi chiare? No, 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 Loco Però, guarda Ah, l'hai preso tetta, Ragnar Mannaggia, volevo rubartelo Ma volevi... Ma guarda che sei un ladro C'ho provato C'ho provato C'ho provato, Loco No, no Vai via Sparisci dalla mia esistenza, signor Loco Sparisci Allora, io voglio capire Se sono sfortunato io o troppo fortunato tu Perché io ne ho trovati di Pokémon Ma nell'ultimo giro, negli ultimi 20 Lucky Block Sai, non ho proprio, proprio trovato nulla di emozionante Se non questo Celestia al 70 Un altro Fion, il secondo al 70 Non tu riuscire davvero a fare una squadra A fare un box intero di Pokémon? Allora, adesso Appena arriviamo su... Cosa hai trovato? Ah, vabbè, ci sta Appena arriviamo su controllo Un attimo per vedere come sto messo Perché è molto difficile la situazione Articuno, vieni qua perché mi servi come il pane Vieni qua Sarà comunque una sfida difficile, Loco Non sarà come le altre volte Tipo, questo è una cana del... Oh Sono pieno di leggendari Ma dai, ragazzi, Loco Ho veramente messo meglio di me Ok, da scomarvi in qua Quanti leggendari sto trovando? Dai, Loco, però è impossibile questa situazione Oh Non va bene, eh Non va bene, Tropius Mamma mia Ok, allora Io adesso voglio controllare, Loco Perché sto in una situazione brutta io Controlliamo un attimino qua Allora Io sono messo male, Loco Cioè, proprio male Proprio malissimo Ti dico quanti leggendari ho? Vai Vai Devo contare, aspetta, sono tanti Allora, io sto messo proprio male Dimmi, campioni Io ne ho bene Uno, due, tre Quattro, cinque Sei Sei ne ho No, è impossibile Sei Giuro No, è impossibile Mi hanno tolto tantissimi Erano falsi, Loco, per caso? No, mi ha tolto il Mewtwo Mi ha tolto Erano falsi, quindi, quelli? Mi dispiace A me ha tolto tutti, ma dai Ma mi dispiace, Loco Secondo round Abbiamo molti più Lucky Block Ora, Loco Perché così possiamo riempire Ancora di più Il nostro box Bene, bene Ai Veltal Ora mancherebbe Solo Xerneas, ragazzi Uh, me lo è Ah, grazie Dai, ma potresti prenderlo, Loco Per favore Dai Dai Ma dai Ok Se non mi prendi Veltal, per favore Puoi prendere Kaiogre, nel caso? No, neanche Perché no? Perché non ti do niente È così bello È così bello Kaiogre, Loco Taca, taca Però vediamo cosa succederà Cos'hai trovato tu intanto, Loco? Stacca, taca Taca, taca Mmm, non male Registilmo lo voglio prendere anche Perché è comunque un leggendario Che porteremo a 70 Se lo dovessimo prendere Un altro Celestila Vabbè, prendiamolo No, no, non si tocca I livelli Restano quelli Non si toccano Ah, sì? Sei sicuro? Ti provi Sei un po' che modo Denti Ti ti dico un po' che modo Denti Mi spiace Va bene No, ok Loco, ecco L'hai detto tu, eh L'hai detto io L'hai detto tu, eh No, va bene L'importante Oltre, si venga qua Subito istantaneamente Grazie Subito istantaneamente L'hai detto tu, Loco, eh È sicuro? Ok, va bene L'ho detto Ok, va bene Allora Uh, 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 uh Chi ho trovato, Loco? Chi ho trovato Di leggendario? Hm? Ternas Chi? Esatto Proprio lui Oh, anche Zeraora Grazie Beh, dopo Zeraora Mi merito anche Di trovare altri leggendari Comunque Tipo un Un Dark Ray O un qualcosa leggere Dai Qualcosa di Bel potente No, niente Io ora non so Fion È il terzo Fion, Loco, eh Sicuramente un Fion In squadra me lo metterai Più di uno Ti banno dalle mie amicizie Cioè, funziona così Credo la sfida, sai? Cioè, eh Devi essere Andorus Mi piace Vieni qua, vieni qua, vieni qua Poi Vieni qua Qualcos'altro Questo Lugia Non è male, Loco Io sto prendendo Sto gli leggendari ormai Perché vedo che ne sto trovando Un bel po' Meno male, in realtà Perché è Secondo me Shiram Ottimo Almeno si alza un po' di più La probabilità Di ottenerlo Questo sloking È 44 Hm? Hm? Non mi fa tanto impazzire Però, beh, ci proviamo Mi si è bloccato tutto quanto Allora, controlliamo qua Allora, vivi L'antipiego Spostati Ok Loco, mi sto andando male, eh Però, perché ho trovato Eccola, vedi C'hai i leggendari più forti, Loco Ragazzi, come sempre Ma non è vero mai Io devo nuotare Nelle Nelle avversità Invece, Loco Ha sempre la stata spianata Ha sempre Tutto Io non so notare Io sono campione olimpico mondiale Di nuoto Sincronizzato, Loco Quindi, guarda Un campione nato Dove stai? Guarda come stai in alto Ti sono avvantissimo Ti demolisco Sono sopra di te Vai, demoliscimi pure Vedremo Vedremo cosa demolirai Hai la stessa forza demolitiva Di un Lego Quindi è inutile Che mi dici Oh, Latias Vieni qua Quanto palchia? Quanto palchia? Hai due palchia? Sì Spero di non chiamarle Onestamente Spero Però, però La speranza è l'ultima Morina ogni volta Vediamo Dragonite a che livello stai? Che io comunque ti voglio prendere lo stesso Non si sa mai Perché Metti in caso che questo LocoLokis Mi prenda un Pokémon inutile Spero che a questo punto Sia Dragonite Essendo che ha un livello più basso Di leggendari Signor Raikou Venga istantaneamente All'interno del mio team Ok Loco Non me ne mancano tanti A me di Lucky Block Spero di poter riempire Almeno un box PC Uno Io lo riempio sicuramente Lo riempi? Probabilmente Però lo riempio Non è semplice Riempirete un box Di Pokémon leggendari Però questo Groudon Potrebbe entrarci Speriamo che ci entri Il proprio di cattiveria All'interno del box PC Ok Via Anche Kaiogre L'ho già trovato Se non mi sbaglio Giusto? Non mi ricordo Sai Mi sembra Mi sembra Regice di Itran Itran è un bel Pokémon Ragazzi Sapete che Loco C'è gli incubi di Itran Se lo sogna Se ne ha anche tatuato Perché così Se lo vedi in giro Sa Kaiogre Ok L'ho chiamato Guarda Kaiogre Grazie Perfetto Sei contento Loco? No Ok Io quasi 1 2 3 4 5 Ok Ho finito anche io Ora Andrò a sfruttare il mio box PC Qua davanti E mi schierò un po' il tutto Loco Io ho qua davanti Tutto il mio box PC Ok Io farò prima Tutte le mie chiamate per te Quindi ti chiamerò Tutti i tuoi Pokémon E poi ti farei i miei Va bene? Siamo pronti? Allora Ti chiamo In ordine A1 A1 Aspetta L'A è verticale Allora 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 Lette le colonne Numeri orizzontali A1 B3 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 C2 C5 E 4 Ok Questo fosse l'ultimo E4 A4 E dovresti aver finito tutti quanti Se non mi sbaglio Giusto? Sì Ok Perfetto Ora Prova tu a prendere I miei Pokémon Non leggendari Vediamo come stai messo Ho lasciato dei buchi qua Io eh F5 Cioè la E è l'ultima Loco La E è l'ultima A B C D E F Ah no F scusa Hai ragione F5 quindi giusto? Sì Ok Poi prossima E5 Ok prossima D4 C4 D D Ok questo è vuoto Te lo dico Sì Vai B1 B1 Sì Vuoto Non davvero Giuro F2 Ok Preso Manca l'ultimo Manca l'ultimo Loco A 5 Ok Va bene Hai solo 4 Pokémon Ho solo 4 Pokémon Sì Tosta questa ragazzi Tosta Allora Vai Possiamo iniziare la battaglia Loco Sarà per me veramente difficilissima Però vediamo Tu non hai idea di Pokémon Che ho io Vai lancia pure Lancia pure Scopriamo assieme che Pokémon hai Allora Via Ok Zekrom contro Gazzlord Ah ragazzi Non ho mosse forti Io Da utilizzare Purtroppo Eh sì Ottimo Meno male Io sto provando a paralizzartelo Ma nulla Ok Hai fallito Hai fallito Ottimo Io questa mossa Quora vorrei tenere Per i prossimi Ma mi serve troppo Il mio Almeno il tuo primo Pokémon Ah Non fa neanche una mossa Ottimo Ottimo Via Gazzlord Via il primo Eh sì Gazzlord Non ha mossa di tipo Drago Una Ganadel Bello una Ganadel Allora Vediamo Cosa possiamo Fare Contro un Pokémon Del genere Ragazzi Paralizziamolo Non ce la fa Tu hai il Pokémon Più forte del giorno Ma non è vero Non è vero Loco Oh Attenzione Siamo in parità Quindi ora Tecnicamente Se te le elimino Siamo in parità Quattro Pokémon Contro a quattro Questo per forza Uh Meno male Che ho tenuto Un Fusion Bolt A parte Però vabbè Ci sta Ora Ora inizia La sfida difficile Allora Vediamo Cosa è Allora Io spero Di paralizzarti Con questo Speriamo Dai No Invece no Addio Eh ragazzi Purtroppo Loco è stato Veramente Molto fortunato Molto 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 fortunato Però Proviamoci Dai Non è detta L'ultima parola Uh Feromosa No Mi ha distrutto Eh sì Il mio compito È di suggerire Te Pokémon Loco Proviamoci Eh Perché Alcune Non hanno Delle mosse Molto forti C'è da dire questo Naganadel Ancora Ma dai Che mosse ha Ma godo io Loco Posso solamente Che essere felice Via Ok Non ti ha fatto nulla Ah Sarà difficilissimo Tu cinque Danni mi hai fatto Non ho capito Cinque colpi Mi hai fatto Vabbè Va bene Aspettiamo Piano piano Con molta calma Ti faccio un po' di Ah Ti tolgo troppo poco Purtroppo Niente Non ce la si può fare Ragazzi Purtroppo Questa sfida qua È tosta Eh sì Eh sì Allora Prossimo pokemon Di loco Volcanion Volcanion Ok Ok Prossimo Come è possibile È solo palchia Ok Ci sta Io ho l'ultimo pokemon Loco No 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 Non ho mostrato Di tipo drago Forza Non ho mostrato Di tipo drago Bravo loco Bravo loco Avevo quattro Ultracreature Bravo loco Bravo loco Io ho avuto in squadra Zekrom Graudon Thandorus E Dragonite Hai schivato Xerne A Seyveltal C'è da dire questo Sfortunato Molto fortunato Noi campioncini Ci possiamo fermare qua Spero che questo video Vi sia piaciuto ragazzi Voi scegliete il video Qua davanti Vi ricordo del Games Week Il 23 e 24 novembre Ciao Ciao